www.maurizopoli.it Ottobre, 31 ottobre, si conclude il mese di ottobre dedicato all'educazione finanziaria con diecentinaia di eventi in Italia tra cui anche noi abbiamo portato avanti insieme a Mondo Padano Università Popolare, AIF, Assozione Italiana di Educatori Finanziari e YourSolution parecchie iniziative, tre noi qui in Cremona dove abbiamo l'ufficio, dedicate a temi di cultura riguardante il risparmio, l'educazione finanziaria in genere troverete tutto sui nostri social, sui nostri siti e sulla rivista settimanale Mondo Padano i vari articoli ma concentrandosi sulla giornata mondiale del risparmio, la 95esima giornata, mi colpisce un dato viene riportato nelle ricerche che cercherò di allegare al video in cui si dice che la predilezione degli italiani per la liquidità 63% tradotto in numeri 1400 miliardi fermi sui conti correnti a dormire dice per l'indole del non si sa mai il mio futuro cosa può riservare a me quindi se non si sa mai sto fermo, nell'incertezza della scelta, le scelte paralizzano le persone quindi sì c'è una predilezione alla parola sostenibilità, risparmio in questi prodotti legati alla sostenibilità ma la realtà è che il risparmio è fermo e dormi sui conti correnti noi diciamo sempre la possibilità di tenere il denaro sì per il futuro ma citiamo anche una frase che è se aggiungi poco al poco ma lo farai di frequente presto il poco diventerà molto quindi è una citazione di esiodo, noi la traduciamo in piano di accumulo capitale ne abbiamo parlato in parecchi video, andate a vedere sul nostro canale youtube your solution, troverete tutti i video, in cui parliamo di come con il poco ma fatto di frequente, il poco diventerà molto ecco questa è una strada, così come suggerimento per il risparmio nella giornata mondiale del risparmio noi lanciamo perché il poco possa diventare molto ricordandovi sempre che il risparmio di oggi è il pane di domani io sono Maurizio Poli, educatore e consulente finanziario i miei contatti, una mia mail m.poli-solution.it un telefono 0372 20405 un sito www.mauriziopoli.it i miei contatti per capire come iniziare a giungere al poco di frequente perché il poco diventi molto buon risparmio a tutti